Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video. Oggi siamo qui in un vlog, lungo il mare, c'ho una voglia di fare questo coso, bellissimo, con la gente che ci guarda, malamente ci guarda la gente, i bambini che passano, vabbè. Il Vucumbra che mi piace proprio questa parola. Qui stiamo avvicinando agli alberghi, siamo lungo il mare, della mitica Monte Silvano. Qui stiamo a lungomare, ma non si vede perché c'è il cancello. Nell'hotel mitico Monte Silvano. Stiamo passeggiando da soli, come due deficienti. Qui vedete tutto il lungomare, da deficienti. Madonna, la gente che ci fissa è troppo brutto. Sì, sì, appunto, ce lo sto dicendo, è un po' brutto. Abbiamo deciso di fare questo vlog. No, ha deciso, molto raro. Lui non lo voleva fare, l'ambassardo. Mettetegli dislike, no, no. No, assolutamente. No, no. Mi sta vibrando il telefono, lo ho tipo, uh, fantastico. Uh, spieghiamo il tuo telefono. No, non ci pensiamo. Stiamo registrando se si vedrà male con il mio telefono. È che io non c'ho voglia del mio. Allora, siamo arrivati alle transenne, raga. Sì, io so, sì. Dovremmo rigirà? Dovremmo. Guarda, ma qua che ci fa? Eh, boh, non ci so, mi sa, ci devono costruire. Vole che parco diventa. Sì, andiamo fa un po'. Sì, perché poi siamo nella mitica Monte Silvano, quindi... Poi c'è tutto. Andiamo più avanti? Vogliamo andare? Tra l'altro abbiamo un albergo con una 500, lo diamo in 70, parcheggiata sotto. Non so se la vedete, vabbè. Andiamo a riguardare la targa per sicurezza. Ah, se no ci segnano nel copyright. Il copyright. Vogliamo rigirà? Sì. Però andiamo su questo marciapiede che non ci vede nessuno. Eh, si spera che non ci vede nessuno perché... Guarda la luce, la luce! Ah, sediamoci un po', vedete qua l'hotel. Tu sei matto? Io non l'avrei mai fatto questa cosa, ma la video scena. Facciamo un video corto, giusto per farlo, perché... Quando ricapita di fare un vlog? Ah, quando ricapita, mi racconta anche per conoscersi meglio. Sì, sì, io sono Matteo Marchionni. No, però qua c'è poca luce. Sono il bambino più bello del mondo. Sì, sì. Il bambino più bello del mondo. Basta che vedi i commenti delle mie fanno, bello. Mi scatta una foto? Meglio che... Selfie? Oh, che ti fa? Mi sono fatto male. Eh, meno male. Madonna, bella fossa, vabbè. Dettagli, dettagli. Eh, madonna, non gliene frega però di te che ti fai male, anche perché non si vede niente. Eh, lo so, andiamo di là. Mira, Sofia. Voglio segnare il copyright, però è brutta. Mi sta guardando la signora, è brutta. Non posso, cioè. O qua ci sono due vecchiare le vecchiare. Perché abbiamo due vecchiare? Dove stiamo difando? Ma perché la gente esce senza motivo? Eh? Perché la gente esce senza motivo? Eh, perché tu esci senza motivo? Io esco per fare un vlog. Ah, come quel bambino della parodia lì. Oh, non già abbiamo l'accendino, cavolo. Dobbiamo chiedere a lui. Ecco, l'accendino. Oppure la mamma di quel bambino. Mui metto così. Oh, una di questi giorni si dobbiamo... Eh sì, ma guarda qua, madonna santi. Sì, pure loro si vengono qua. Dobbiamo affittare un tanto a uno di questi giorni. Sì, con voi affittiamo. No, ma che è te? Facciamo un vlog. Ma non mi sa che si deve essere maggiore anni poi. Qui c'è altro, babbo. Sì, babbo, ma parla. No, mi fai male. Ci uso, soffi. Uh. Ah. Telecamera in faccia. Come un buonino. Mi sono bello. Solo oggi. No, tutti i giorni. Oggi di più. Perché ho le scarpe nuove, i capelli nuovi. Che fa vedere? Scusa. Valencia, ragazzi. Lo so. Bellissimo. Direttamente da Valencia. Siamo a Valencia, ragazzi. Era uno scatto. Guarda qua il mare. Questo è il mare di Valencia. Monte Silvano B. Ci vediamo. Lo stabile di me. Vedete qua i mares? Adesso basta che la gente mi fissa. Ci, 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 ci. Poi fermiamoci, vi diamo il video qua. Questa panchina tutta bella, bella. Molto. Bella. Guarda che panchina, ragazzi. Ma guarda che cos'era vi facciamo. Allora, come sempre, io direi che questo video... Oh, guarda qua. No, scusami. Io direi che questo video può finire qui. Meno male, fortuna. Vado nei miei capelli. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Lui non vi ringrazia. Non vi ringrazio, come sempre. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video. Commentate, condividete ai vostri amici. E... Oh, ciao. 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 Brutta crisura. Molto.